Negli europei di calcio a 5 non vedenti che si stanno svolgendo al poggio degli olivi di Città Sant'Angelo, l'Italia non riesce nell'impresa di qualificarsi alle semifinali. Nell'ultimo turno del girone di qualificazione gli azzurri sono stati battuti 1-0 dalla forte Turchia che è passata come seconda alle spalle della Francia. Verdetto tuttavia accolto con serenità perché la nazionale guidata dal CT Michele Pugliese sta proseguendo il percorso di crescita per arrivare al livello delle migliori e perché resta un obiettivo importante da conquistare, il quinto posto che vale l'accesso al mondiale. Noi stiamo costruendo, abbiamo posto delle fondamenta per il futuro e dopo queste partite con squadre di alto livello come la Turchia e la Francia possiamo dirci pienamente soddisfatti, le fondamenta ci sono e penso che reggeranno a lungo quindi stiamo lavorando, stiamo lavorando tanto. Sì, a questo punto ci rimane il quinto posto, è fondamentale questo perché vogliamo andare ai mondiali l'anno prossimo appunto perché effettivamente è molto più bello giocare contro queste squadre molto forti sono delle esperienze che ti fanno crescere e anche se si perdono queste partite in realtà ti lasciano sempre un grande insegnamento, non tutte le sconfitte sono delle vere sconfitte ma spesso sono sconfitte che ti insegnano a crescere, a maturare. E l'obiettivo quinto posto resta vivo perché questa mattina l'Italia ha sconfitto 4 a 2 la Romania protagonista Poli Iobo, autore di tutte e quattro le reti italiane domani pomeriggio l'ultimo ostacolo per gli azzurri che alle 17.30 sfideranno la Polonia una vittoria permetterà di centrare il mondiale.